Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale, oggi vedrete la mia ombra passare sulle carte, mi dispiace, cercherò di mettermi in posizione così un po' più spostata, siamo in una location differente e facciamo l'interattivo ai tempi del coronavirus, non ai tempi del colera. Detto ciò, ho fatto spostare il nostro elefantino, anzi lo mettiamo di schiena così lo vedete un po' meglio, infatti i segna carte diciamo sono cambiati, oggi abbiamo Pinocchio, abbiamo questo topolino che poi è anche un fischietto, quindi scegliete voi come lo volete considerare e abbiamo questo elefantino che di schiena porta bene, schiena verso la porta, infatti porta bene. A parte le battute, andiamo a chiedere, e fa sempre parte delle vostre richieste per gli interattivi gratuiti, se la persona a cui penserete, io dico sempre state pensando perché poi dovrete fare comunque una scelta, a chi sta pensando questa persona? Vedremo a chi sta pensando, vedremo com'è la situazione e come evolverà, quindi questo è un po' quello che faremo. Ne approfitto per chi vede il video oggi, informazione che poi non servirà per chi verrà il video fra qualche mese, la consegna delle revisioni avverrà e degli approfondimenti o in tarda serata, oppure domani mattina prestissimo, io conto nella notte di inviarli, però li verrete domani mattina. Cosa sono gli approfondimenti? Per chi non lo sa, tutte le persone che hanno scelto un consulto personale con me ricevono il consulto, spesso la stesura di carte può andare, io vi dico una media, non è calcolata, però di solito un consulto va da una mezz'oretta di approfondimenti a anche un'ora abbondante, a seconda di com'è la questione. Però dopo che viene ascoltato, essendo un video privato, inviato al proprietario, possono esserci comunque delle domande e dei dubbi e è mia abitudine consentire ad ognuno di porre una domanda o chiedere una spiegazione e realizzare poi, compreso nel consulto privato, quindi non assolutamente un costo aggiuntivo, questo approfondimento che è un altro piccolo video che viene inviato e credo che sia corretto e il minimo che si possa fare. Per il resto, chi ha fatto i consulti con me lo sa, il consulto può avere varia natura, ci sono consulti circoscritti e consulti che richiedono anche dei calcoli particolari, anche astrologici, carmici e per qualsiasi informazione potete scrivermi all'email che trovate sul canale tarocchiviaggioalchemico.com e riceverete tutte le informazioni, Io invio sempre il modulo per la privacy, ovviamente la fatturazione, la fatturazione privata e tutela la privacy del cliente, del consultante, viene inviata comunque per email, voi la potete gettare, soprattutto se non scaricate, l'importante è che la consegni io al commercialista, diciamo tecnicamente per assolvere ai nostri doveri, la funzione più importante di quelle ricevute è che io le consegni e per me sono indispensabili. Ho detto ciò, procediamo e andiamo a vedere, scegliete la vostra variante Pinocchio, Topolino e Elefantino e direi di cominciare, io sposto un attimo in modo da poter sfruttare anche la parte in luce, diciamo, dove non arrivano tanto le ombre. Ci spostiamo così, mettiamo il nostro Pinocchio qui, chiedendo a Pinocchio di non dire le bugie, ma di farci solo da testimone. A chi sta pensando? Allora, la persona che avete in mente ha un pensiero ben focalizzato su un'unica persona, non è un dispersivo, non ha più gridi per la testa, assolutamente, è completamente preso, catturato dal pensiero di questa persona. Con questa persona, poi voi saprete se state pensando a qualcuno che ha avuto a che fare con voi o con altre, o se ha delle situazioni, o se vi ha detto che è interessato ad altre, poi contestualizzate voi. Però questa persona è una persona con la quale ha vissuto dei momenti unici, proprio quando si dice sentirsi sollevati da terra, volare. Il suo desiderio è quello di essere presente, di difenderla, di abbracciarla, se c'è stata un'assicurazione non è stata assolutamente voluta, qui c'è un sentimento di compenetrazione, partecipazione, condivisione totale. Però c'è una situazione di opposti, anche nel colore di questi abiti, deve esserci stata una dinamica, poi vediamo, che ha contrapposto pur non volendo queste due persone. Sicuramente questioni pesanti e scottanti, che sono sia alle spalle, ed è vero, però ancora bruciano. Inoltre sono coinvolte tante persone che ruotano intorno a loro, e sono delle persone, o quantomeno delle energie, un po' dispettose. Vedete, ci sono gli maletti, c'è un ognomo, c'è una fatina, c'è comunque un personaggio alato che sembra un pochino dispettoso, più che amorevole. E diciamo che il collegamento, se non è una vicinanza reale, è una fortissima vicinanza emotiva, interiore, intellettuale, empatica. E il desiderio di questa persona nel suo pensiero è di poter scappare, di poter stare solo con l'oggetto amato. Non prendetemi in parola in senso negativo oggetto, per dire comunque con la situazione, il contesto, la persona amata, senza nessun intorno. Cioè proprio ritagliarsi lo spazio vitale sufficiente per poter condividere la loro intimità. Cioè qui non serve il letto a due piazze, qui va bene il letto a una piazza e mezza, e nella peggiore anche il letto singolo, tanto si sta stretti, si sta abbracciati. Comunque c'è un pensiero d'amore, è un pensiero molto molto focalizzato su questa persona. Allora, probabilmente c'è una situazione comunque di separazione, e non c'è stato un contrasto. Cioè, se voi siete uomo o donna, comunque l'altro sesso, intendete ora questa carta come l'altro sesso rispetto a voi che chiedete, ha accettato non di buon grado, ma a livello di saggezza e di razionalità quello che è accaduto. E nel frattempo non si è radicata nel pianto e nella disperazione, ma ha continuato ad evolvere, a lavorare su se stessa, questa persona, e ad ottenere frutti, tanto in saggezza quanto proprio, praticamente, frutti, a raccogliere. Siamo nella stagione dell'autunno, c'è appena stato il raccolto, è il momento di consumare e condividere l'uva, il grano, il pane, tutto ciò che è stato comunque prodotto con la fatica dell'estate e con l'impegno e il lavoro e la semina nella primavera. Prima di dirigersi e accettare un inverno che comunque arriverà, ma ci troverà preparati. Qui c'è una persona che è in attesa e che non ha perso la speranza e se c'è stata la separazione, probabilmente è avvenuta per delle situazioni inevitabili. Grande amore, però c'era comunque, non so, la famiglia alle spalle, figli piccoli, minorenni, Cioè questa persona sta aspettando, ha deciso di stare da sola, non si è circondata di altre situazioni, perché è convinta che prima o poi l'altra persona riuscirà a liberarsi e tornerà da lei. Cioè queste due persone sono fondamentalmente collegate e anche se non si parlano e non si vedono, sentono reciprocamente onestà, dedizione e attrazione l'uno verso l'altra. Tanto è vero che questa persona ha avuto più occasioni nel frattempo, la possibilità di scegliere fra tanti pretendenti, tante situazioni, tanti sentimenti, e anche se ha provato emozioni e non è rimasta indifferente alla vita. È come se questa persona avesse deciso di mettere in ombra le sofferenze che tuttora resistono, restano e non sono state smarrite per la strada. E di guardare tutto ciò che in un qualche modo può avere attratto la sua fantasia ma senza prenderlo. Perché tra queste due persone è come se ci fosse stato o forse c'è stato realmente un tacito accordo, una promessa, un giuramento. Riusciremo a ritrovarci, riusciremo a stare insieme. Non è facile, è una questione pesante, sono situazioni complicate, ma noi faremo di tutto per poter coronare questo nostro desiderio. Ora, queste carte, queste che vedete qui con il dorso grigio, le alzeremo così sempre, perché sono delle carte che hanno sia il verso, entrambi i versi. Ora, io non ne ho idea di come siano messe in questo momento, quindi noi ci diamo solo la regola di alzarle così per abitudine. Quindi andiamo così e ci prendiamo la parte di sotto. Maldicenza avvertimento. Allora, quest'amore potrebbe essere stato comunque scoperto, o intuito da qualcuno, da questi personaggi che girano intorno, che devono avere un pochino stretto il cappio al collo, in maniera figurata, a lui più che a lei, o comunque alla persona a cui state pensando. La persona a cui voi state pensando e di cui chiediamo lui a cosa sta pensando. Devono esserci stati dedicati o quantomeno delle malelingue, dei pettegolezzi, qualcosa che comunque ha fatto, diciamo, un pochino terriciversare il rapporto, che per quanto nell'ombra e non, diciamo, sbandierato ai quattro venti, comunque era reale. Quindi la paura di avere conferme, ma non tanto le persone che in questo rapporto lo vivevano e quindi lo conoscevano, ma la paura che queste conferme arrivassero alle persone che insinuavano già, ha fatto sì che due prendessero assieme di concerto la decisione di staccare e di darsi appuntamento al futuro, con la certezza che entrambi, anche se separati, avrebbero fatto semplicemente dei passi in avanti volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Cioè queste persone non si sono date un tempo e non si sono date una dinamica o un piano, si sono date l'obiettivo, un obiettivo che è l'orizzonte. Ora qui questo è l'orizzonte del passato dove ci sono state le problematiche, va bene, però questo orizzonte, la solidità di queste montagne che diventa anche il fuoco della passione che si può sempre riaccendere, quindi questo fuoco può essere tanto un problema che c'è stato e ancora non si è spento quanto una passione alle spalle che c'è e tuttora brucia e brucerà nuovamente in senso positivo e costruttivo. Loro si sono dati l'obiettivo, si sono dati l'orizzonte e si sono detti il primo che arriva sta lì, si ferma e aspetta. E infatti contrasti e avarizia. Qualcosa deve essere accaduto che ha portato di necessità i due a dover prendere una decisione, il contrasto evidentemente non è stato con loro ma con altri, avarizia, qualcuno deve aver rivendicato un'attenzione, una presenza mancata. Quindi deve aver rivendicato e rimproverato uno dei due, la persona a cui state pensando, di aver sottratto magari attenzione alla famiglia, alla compagna ufficiale, anche se non c'era più rapporto, però c'è il rapporto legale, ai figli, al lavoro. Quindi qualcosa deve essere accaduto su questo fronte. E beh, tutte carte un pochino di fastidio, quindi c'è stata la discussione, eh sì, vedete, ora è capovolta, qui c'è un piccolo forziero, un sacchettino di denaro, non so se riuscite a vederlo. E questa persona che arriva e guarda è come se qualcosa fosse stato tolto da questo forziere. Se lo vogliamo intendere come un tesoro, come i sentimenti, qualcosa di prezioso, è come se qualcuno si fosse reso conto, magari il compagno o la compagna ufficiale della persona a cui state pensando, e che a sua volta sta pensando evidentemente a voi, o comunque a questa compagna ideale, questo compagno ideale, qualcuno deve essersi reso conto del fatto che il suo cuore, in realtà, e il suo pensiero fossero focalizzati e indirizzati ad altro. E quindi, sebbene non gli interessasse magari il compagno, nel momento in cui ti rendi conto che questo compagno guarda altro, allora gli scatta il possesso, la gelosia, la vendetta devi guardare solo me e mi stai togliendo del mio. Magari uno parli e gli dice guarda siamo stati vent'anni assieme, mi è sempre disprezzato, non ti sono mai andato bene, adesso che sto guardandomi intorno sono tuo, non è prima, dove ero? Però sapete, sono meccanismi, credo che... diciamo ci siamo passati un po' tutti, entrano, o perché li abbiamo vissuti o perché li abbiamo sentiti, entrano spesso in azione in queste situazioni. E sì, e ci devono essere state anche delle considerazioni poco piacevoli riguardo la compagna, la terza, cioè la compagna di colui a cui state pensando, il suo amore, il suo pensiero fisso, il suo pensiero costante, che sebbene abbia dato amore, sentimento e tutto quello che mancava magari dalla compagna ufficiale, e io credo che a questo punto questa compagna siate voi, perché la carta parla poi della consultante, è stata comunque giudicata male e lui non l'ha potuta neanche difendere più di tanto, perché il tacito accordo fra queste due persone di profonda saggezza che hanno capito che difendersi ora non avrebbe portato a nulla, ma il rapporto avrebbe tratto molto più vantaggio dalla lungimiranza di aspettare per riprendere dopo in tempi migliori, si sono detti non fa nulla, accettiamo questo diciamo questo non questo peso, accettiamo questo brutto momento, anche questi giudizi, anche queste parole, non andiamo a contraddire, non giustifichiamoci, lasciamo che la piena ci sovrasti, tanto deve passare come dice la canzone poi riportare anche l'abbattiato, caliti yunco, capassa la china, ora non so se l'ho pronunciata bene, vuol dire piegati, giunco, che la piena passerà, perché se ti opponi alla piena rischi di essere travolto o addirittura spezzato, ecco, diciamo che a livello proprio profondo quello che è accaduto, la dinamica che si è data fra queste persone è stata questa, e vi dico anche che per quello che sento io ora vediamo come andrà, alla fine riuscirete a recuperare, vediamo un pochino cosa ci dicono gli arcani maggiori, allora, qualcosa che si muove o si capovolge o si sblocca o addirittura può rimanere tutto uguale, allora, per capire meglio questa carta dobbiamo comunque far seguire la prossima, perché la ruota è sempre la ciclicità, qualcosa che torna, qualcosa che cambia radicalmente, qualcosa che non cambia per nulla, quindi noi a onor del vero dobbiamo tenere presente le varie interpretazioni che non sono poi solo queste, anche la colonna vertebrale, abbiamo la Kundalini che si risveglia dall'illusione o dall'intuizione, abbiamo due forze opposte e contrarie che muovono, quindi a volte l'armonia degli opposti che porta al movimento perfetto, tutto va bene, il recupero dell'armonia, il giudice in alto, la sfinge e quindi sono tante le possibilità di questa carta, vediamo con la prossima, allora, sì, le tempistiche sono un po' lunghe perché la situazione è ancora bloccata, però non è messa a tacere per sempre, questo è certo, e la forza tuttora resiste e sempre lei della foresta del proprio regno è il leone, per quanto adesso possa essere messo un pochino a tacere, e infatti con il bagatto vediamo che al di là del fatto, scusatemi, ripetizione, che le tempistiche non saranno velocissime, avremo un nuovo inizio e si potrà recuperare, e vi faccio anche notare una cosa che noto in questo momento, che questa situazione darà frutto nel migliore dei modi, ed è questo, questo pentacolo, tanto aditato dal bagatto e quanto tenuto stretto in mano da questa donna, va detto anche quindi, se questa donna corrisponde con voi, vi riconoscete nella stesura, se questa relazione avrà modo di riprendere e di portare frutto, sarà soprattutto per la grande pazienza e saggezza che avrete saputo avere voi, che siete colei che sta attendendo. Perfetto, passiamo alla seconda variante, la variante del topolino, la mettiamo qui. Allora, vediamo chi sta pensando questa persona. Questa persona sta pensando a un compagno, una compagna dalla quale si si è allontanati. Io credo che sia la compagna al compagno ad essersi allontanato, qui c'è un fuoco che va a spegnersi, un incenso, resta più un odore che un qualcosa che lo produce, quindi un qualcosa che si sta diradando, cioè non si capisce se una neve che arriva o un inverno che si scioglie, probabilmente una neve che arriva perché abbiamo un personaggio giovane, perché in questo mazzetto ci sono scenari simili con personaggi di età differente, quindi qui la neve comincia ad arrivare, comincia a scendere il gelo, comincia a passare per il tempo le sofferenze sono ancora fresche, si stringono nelle mani, si osservano, c'è gelosia giallo e si cerca di capire. E in più c'è questo animaletto perché conosce il mio mazzetto di carte da rocchi pagani, spesso sull'albero innevato c'è un nido con due di questi uccellini rossi, quasi a voler sfidare una stagione in cui non si può stare assieme, non si può creare un nido, in questo caso invece c'è un uccellino mesto, solo, con la coda abbassata, che non vola, che attende e che guarda l'orizzonte e soprattutto non c'è nessun nido, non c'è nessuno con cui costruirlo. Questa persona sta pensando quindi a qualcuno che deve aver disatteso, disilluso le aspettative comuni. E infatti qui c'è stato un accordo, una promessa, c'è una sorta di tacito contratto stretto tra lui e la persona a cui sta pensando, solo che quello che i due hanno detto non ha assolutamente rispecchiato quella realtà dei fatti. E solo dopo che la realtà ha dimostrato che si trattava di parole, la persona a cui state pensando si è resa conto di essersi bloccata da sola e imbavagliata da sola di non aver voluto vedere. Cioè molto probabilmente l'intuizione che questa situazione non si sarebbe poi mai data nella concretezza nella realtà la persona a cui pensate già l'aveva avuta, aveva già affiutato questa cosa. Però è come se non l'avesse voluto vedere e non ha fatto nulla per impedire che ciò accadesse. È stato quindi stretto un patto, un contratto che ha portato sofferenza e assolutamente non gioia. Era un qualcosa che stava andando a morire fin dal nascere. Se vogliamo pensare che tutte le cose che si fanno in parte sono influenzate dalle energie del momento della giornata in cui vengono fatte, ecco perché ad esempio la ritualità della messa ha determinati orari e determinate funzioni in un certo modo, la messa nuova del giorno dopo si dice alle 6 del giorno prima, vabbè più o meno mi pare. È per dire semplicemente che a seconda del momento della giornata voi sfruttate a livello di magia anche magia bianca le correnti ascensionali o non del cosmo. Quindi un qualcosa che viene fatto all'alba sfrutta l'energia del sole nascente, quindi un qualcosa che nasce e che ha dinanzi a sé un futuro. Un qualcosa che viene stretto, firmato, contratto di sera al tramonto già di per sé porta in sé energie di chiusura, di fine, cioè c'è poco tempo per far sì che questa cosa realmente avvenga quindi probabilmente non avverrà. Questo è tanto per dare delle indicazioni e delle informazioni in più. Avevamo la promessa infatti di una celebrazione, di una condivisione, non lo so, magari c'era un fidanzamento, un matrimonio, una nuova nascita, fare una casa in comune, una quotidianità in cui sono coinvolti i parenti, amici, conoscenti, però era un qualcosa vedete? È come se la promessa era questa, energia di nascita e addirittura un arcobaleno simbolo spirituale per eccellenza. Condivisione, sentimenti, coppe, alzare i calici, brindare una vittoria, scusatemi, ci sono anche i lampi, i tuoni e i fulmini, ma poi nella realtà si è rivelato questo. E voi mi direte perché non il contrario? Vi dirò non il contrario, ora vediamo anche con le altre carte, semplicemente perché mi voglio attenere all'interpretazione della prima carta che comunque ci dà questo personaggio, tra l'altro sembra addirittura coinvolto, perché vedete c'è un personaggio biondo vestito di giallo, lo abbiamo qui, a meno che guardando bene, essendo poi la coppia ufficiale questa, lui era il terzo, allora potrebbe esserci anche un'altra interpretazione, guardando bene, una coppia ufficiale, eccola qui, una terza persona, l'amante, al quale uno dei due della coppia ufficiale aveva giurato amore e ha detto no guarda è tutta una copertura, un'abitudine, è solo un'apparenza, che non ha visto bene o non ha voluto vedere e si è ritrovato poi solo e abbandonato. Un'altra interpretazione quindi potrebbe anche essere questa, comunque la persona a cui lui o lei sta pensando è qualcuno che aveva fatto delle promesse importanti di vita insieme, di quotidianità e poi o è scappato, si è rimangiata la varola o aveva un'altra persona a conquistare come stiamo vedendo e poi alla fine è tornata da questa persona, comunque una persona che ha detto una cosa e ne ha fatta un'altra non perché poi all'improvviso sono cambiate le condizioni esterne, il contesto è stato costretto perché già nella sua mente comunque c'era di comportarsi così. Allora continuiamo a girare le carte così. presagio novità e l'abbiamo detto e l'abbiamo detto quanto meno in cosa bello che c'è uno dei personaggi con il vestito giallo che torna anche i capelli biondi che quasi sta a voler farsi dire la verità sta strattonando vi faccio vedere un pochino quest'uomo vedete già uscita questa carta è un altro interattivo che gli tiene la bocca quasi a voler ridare un bacio ma a farlo desiderare è come se si volesse dire dammi prendi cioè ti voglio trattenere tu mi stai per dare un bacio ma io sento che te ne stai per andare ho già questo presagio la novità è intesa come un cambiamento imprevisto che non per forza è positivo quindi questa persona comunque in questo momento sta anche rivalutando oltre pensando alla persona che è andata via sta pensando proprio alla situazione è in un momento in cui sta cercando di comprendere perché è andata come è andata c'è proprio fresca qui la situazione non si è chiusa da tanto tempo il cambiamento c'è stato da poco allora abbiamo una persona in uniforme forza e soppruso quindi una persona che ha un'autorità una persona di cui ci si può affidare perché se voi incontrate una persona in uniforme qualunque sia la sua uniforme pensate che sia una persona affidabile che vi difenderà cioè non vi farà mai nulla che possa andare contro di voi è una persona che dovrebbe far parte non so persone in uniforme pensare a qualcuno che ha a che fare con le forze armate con l'esercito cioè che deve difendere a prescindere anche se non vi conosce figuriamoci se ha intimità con voi una persona che ha forza autorità e anche il coltello la spada dalla parte del manico è come se adesso nelle mani di questa persona fosse rimasta solamente la spada e non più il proprietario la proprietaria però va detto anche che si parla di sopruso quindi qualcuno che fa abuso della propria autorità e che invece di tutelarvi magari vi nuoce e voi proprio perché non ve lo aspettavate da questa persona sia per il ruolo sia per la posizione e sia per le promesse fatte lo avete anche lasciato fare con il cuore in mano quindi non vi siete neppure difesi quindi se vi poteva far male dieci già col tentativo di difesa andando così senza armatura senza protezione vi ha proprio fatto malissimo allora 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 beh sportività audacia abbiamo in realizzazione è una carta che ci parla di gioco nel gioco si può anche bleffare allora dobbiamo contestualizzarla meglio perché subito dopo questa non la inquadro bene però vediamo quello che viene dopo quello che mi viene da dire è che questa persona può avere magari contemporaneamente giocato non solo con voi ma anche con altre persone però sempre in relazioni a due cioè praticamente questa persona se ha celato la storia con voi al partner ufficiale potrebbe aver celato la storia di una terza persona con voi con il partner ufficiale oppure non contemporaneamente ma con distanza breve di tempo un set per volta e il gioco del tennis è un gioco anche molto veloce e spesso si cambia campo quindi anche posizione e quindi anche contesto anche luogo ecco si passa anche la palla e c'è una velocità tale per cui a volte non si riesce neanche a vedere bene c'è bisogno infatti di un altro che osservi dov'è che la palla va a sbattere per dire che non è facile controllare questa persona ho una persona che ha a che fare anche con l'aria con il movimento l'agilità un segno d'aria comunque una persona molto agile mentalmente una persona molto brava con le parole cioè è un qualcuno che sa rigirarsi la frittata come vuole e all'inizio è talmente diciamo brillante che non fiutate subito che un pochino non dico un bugiardo non è quello però è uno che sa parlare se vi vuole convincere il modo di convincervi lo trova al di là delle azioni ladro disonesto e azzardo era così la carta l'abbiamo girata quindi sì vi confermo non è tanto il fatto del ladro anche se appropriarsi della vostra fiducia e poi dissiparla vuol dire anche in parte rubarla e gettarla cioè perderla comunque sarà una persona disonesta una persona che ha azzardato cioè questo comportamento è un pochino un'inclinazione che questa persona ma non sempre riesce a passarla franca probabilmente ora io non lo so c'è il rischio e lui lo calcola questo rischio sa anche che tanto più finge tanto più va in alto quanto più se poi cade si fa male però è come se fosse una forza più forte di lui è un cleptomane cioè è come se fosse una dipendenza è come se questa persona volesse essere circondata ammirata omaggiata e se qualcuno non gli da quello che vuole va e se lo prende quindi è talmente brava questa persona che se non riceve in automatico quello per cui lui costruisce tutto il suo teatrino tutta la sua storia tutta la sua mezza farsa perché poi in parte è anche vero però una buona mezza farsa ecco è come se lui poi alla fine trova il modo di manipolarvi per farvi fare quello che lui vuole cioè se lo fate voi benvengasi anche un pochino alleggerisce il lavoro però è uno bravo a impappocchiarvi talmente tante cose che alla fine lui che vi fa il torto ma vi fa trovare la parte del torto quasi convincendovi di ciò poi svegliandovi voi da questa sorta di torpore di chiacchiere riuscite magari a capire che non è colpa vostra vediamo che evoluzione avrà questa situazione beh qui è il taglio cioè cerchiamo di capire se è un taglio io credo più che altro di sopravvivenza non è una situazione che vale la pena portare avanti allora questa lama che stiamo guardando ed essendo anche fresca questa situazione potrebbe farci reagire con quella rabbia necessaria per difenderci per la nostra sopravvivenza e dire diamolo questo taglio perché se non diamo noi questo taglio comunque alla fine finiremo col ferirci noi vediamo questo taglio questo taglio rinascita sì perché comunque la situazione non cambia il meccanismo il meccanismo delle bugie dei sotterfugi della sessualità vissuta in maniera molto personale libera che però vincola l'altro condizionamento situazioni poco chiare e malessere in generale ecco è il caso magari di dare un taglio a ciò che altrimenti continuerebbe a ripetersi dico così perché se nel caso avessi avuto il diavolo prima della morte almeno per quanto mi riguarda avrei detto c'è questa situazione comunque ve la confermo però pare che ci sarà un taglio invece qui vi dico c'è il taglio perché altrimenti si ripresenta questa situazione questa situazione che fa parte del comportamento di questa persona che è bella seduta su questo bel cubo che è il suo trono bello stabile poi è un cubo una bella figura geometrica che non la sposti soprattutto se pesa non è una sfera facile da far rotolare quando si dice una persona quadrata ecco questa è una persona quadrata nel bene e nel male e soprattutto si riconosce un'autorità che forse può anche avere però sinceramente come si dice ma anche no detto ciao ragazzi questo è quanto per la seconda variante chi sta pensando qui stiamo pensando più a una situazione legata ad una persona ad un comportamento questo sì ma soprattutto ad una situazione passiamo adesso adesso alla terza ultima variante con l'elefantino lo mettiamo così un po' di schiena ecco così vedete anche che ha il tappetino sulla schiena arancione vabbè dai mettiamolo di volto facciamo vedere ok a che stiamo pensando allora qui oltre che pensare stiamo facendo qualcosa che ci fa avvicinare all'oggetto che a cui stiamo pensando cioè non noi è vero che questo interattivo lo potete leggere come a cosa sta pensando lui in questo momento e se vi mettete al posto di lui anche voi a cosa sta pensando questa persona sta osservando una situazione da lontano la quotidianità di una situazione in cui lui o lei non ha più niente a che vedere a che fare dalla quale è stata allontanata probabilmente questa persona potrebbe chiedere o addirittura osservare da lontano anche tramite social però non è che ci va per caso ci va proprio per libera scelta è organizzata proprio per andare cioè qui non siamo un viandante che per caso si trova in questa radura e all'improvviso vede un fuoco no qui siamo uno che sta nascosto dietro gli alberelli che ha il suo bel zainetto sulle spalle il suo bastone a cui appoggiarsi cioè uno che si è incamminato volutamente in questa radura in questa direzione e sta osservando da lontano questa tenda questo fuoco c'è una situazione ancora in essere vediamo un pochino cosa c'è a chi stiamo pensando stiamo osservando la felicità di qualcuno ora cerchiamo di capire se è una nostra felicità però in realtà quello che viene a me è che noi stiamo osservando la felicità di qualcuno di cui con una delle due persone probabilmente abbiamo anche un legame particolare l'altra è allo scuro di tutto ed è ignara qui c'è una persona che può girare a testa scoperta col volto scoperto e c'è un'altra che si difende coperto il volto non il volto ma il capo un pugnale nella mano vuoi o non vuoi e le mani congiunte sul petto se voi recuperate qualche video o guardate semplicemente la lama degli amanti in molti tarocchi al centro c'è l'amante uomo tra due donne che spesso ha queste mani sul petto quanto meno si trovano gli arcani questi qui che sto usando io questi qui dorati vedete questo personaggio con le mani congiunte sul petto che si trova con gli occhi chiusi a dover prendere la decisione tra due persone ecco qui c'è una persona che la decisione l'ha presa l'ha presa in favore di questa magari all'oscuro di questa cerca il fatto che lui stesse per prendere una decisione l'altra la persona a cui state pensando pensa a lui e a lei e osserva questa situazione da lontano quindi quello che sta facendo in questo momento oltre che a pensare a questa situazione addirittura è osservarla seguirla si è seguirla e proprio nella quotidianità in tutto ciò che accade allora qui c'è stato uno stop un viaggio che si doveva fare assieme che è stato interrotto e per me si conferma sempre più il fatto anche guardando i personaggi di questo mazzetto di questa donna che è scesa da un mezzo prendete l'immagine in senso metaforico che ha avuto un'avaria lui ha colto la palla al balzo è come se da questo evento o tramite questo evento avesse trovato l'opportunità di dire qualcosa per svincolarsi da lei in favore dell'altra quindi se voi siete la persona che sta osservando potete contestualizzare meglio detto ciò se invece state pensando a quella persona che osserva sappiate che a quella persona se voi adesso siete la partner ufficiale era stata fatta una promessa questa promessa non è stata smentita per il coraggio di dire no non si fa più ma un pochino vigliaccamente si è accolta l'occasione l'occasione che il contesto ha dato di questo inconveniente ed ora la persona giustamente non manda giù la cosa vediamo un po' cosa è accaduto e infatti un ostacolo temporaneo è una prosperità futura l'ostacolo temporaneo si è verificato la prosperità futura in questo caso però è ad uso e consumo dell'altro cioè dell'oggetto del pensiero della persona che avete nella vostra mente infatti è stato un pochino meschino come animale abbiamo un topo che ruba un pezzo di formaggio e se lo sta addirittura contendendo con un serpente ah no sto dicendo una stupidaggine non è un pezzo di formaggio faremi guardare non si capisce sembrerebbe un pezzo di formaggio ma sembra anche un uccellino giallo comunque il topo qualcosa prende e se lo sta contendendo con il serpente quindi abbiamo il comportamento meschino abbiamo le bugie abbiamo le male lingue abbiamo anche il fatto di io ho pensato a me alla fine sono stato egoista e ho scelto per me non ti ho considerato non avevo il coraggio di farlo in maniera autonoma e chiara trasparente ho colto la palla al balzo e infatti c'è stata falsità ci sono state bugie una situazione che è morta una frattura probabilmente poi l'altra persona si è allontanata totalmente ha cominciato a vivere in maniera completa piena e serena la nuova situazione quindi potreste essere anche voi questa persona che ha iniziato a vivere la situazione in maniera serena perché colè che osserva questo personaggio ripetiamo i personaggi perché è un po' complicata sono questi tre questa è la persona che osserva la felicità di questi due questa è la persona che state pensando voi e di cui chiedete a cosa pensa a sua volta in questo momento a questa situazione qua in questa situazione qua se questa è una donna lui aveva fatto delle promesse a lei ha colto la palla al balzo si è svincolato in favore di lei e c'è stata questa frattura questo allontanamento questa rottura come dice la carta che abbiamo da poco girato allora questa conversazione vediamo un pochino come la potremmo contestualizzare questo bellasso di cuori vediamo con la prossima carta perché qui qualcuno ha parlato qualcuno ha non dico chiarito allora a me viene questo che nell'ufficializzare questa situazione infatti qui ci sono più persone lui per ripulirsi totalmente la coscienza addirittura chiamato a testimoni gli amici cioè se c'è stato un fidanzamento ufficiale un'uscita ufficiale una promessa ufficiale addirittura un matrimonio una convivenza sono stati chiamati in causa anche gli amici quasi a voler creare una sorta di cortina di ferro a protezione della nuova situazione nel caso in cui l'altra donna tornando avesse provato a cercare spiegazioni o imporre la propria presenza al proprio ruolo cioè è stato creato un contesto talmente saturo pieno e forte che non c'era spazio neanche per il ricatto o la minaccia perché non sarebbe stata credibile quindi la persona che vede nella vostra mente sta pensando anche a questo forse questa cosa non la sa e sta osservando a distanza proprio per capire come mai è impenetrabile questa fortezza questa coppia eh sì perché qui comunque ora io non so probabilmente voi siete la partner ufficiale a questo punto perché la donna di questa coppia che è la donna elegante per l'appunto la donna ufficiale quindi sposata corrisponde anche per questo mazzetto alla consultante allora diciamo così se vogliamo cercare di fare quanto più chiara questa stesura voi siete la donna ufficiale della persona di cui chiedete cosa sta pensando questa persona aveva qualche situazione con un'altra dalla quale si è liberato e vi dico anche che si voleva liberare forse si era impelagato in questa situazione in un modo o in un altro ne voleva uscire ha colto la palla al balzo quindi per una volta tanto voi che siete o la moglie o la compagna ufficiale sappiate che lui ha scelto voi però c'è qual è il problema mi sto incartando un attimo no allora cancellate questa mia ultima affermazione è vero questa è una variante complicata torniamo indietro facciamo chiarezza la persona a cui state pensando è in questa situazione l'altra ok perfetto questa è una coppia è uno strano trinomio di persone voi pensate alla persona fuori dalla coppia in cui vivete voi perfetto allora voi siete eccoci voi siete probabilmente l'abbiamo detto questo ecco adesso cominciamo a rimettere bene gli elementi non me ne vogliate aiutatemi siete parte anche voi dell'interpretazione allora allora voi pensate a una persona che non è ora il partner ufficiale vostro che sta cercando di capire la vostra situazione voi siete colè o colui che ha colto la palla al balzo l'ha allontanato perché comunque alla fine ha preferito la situazione ufficiale ecco vi ho fatto chiarezza siete voi che avete ufficializzato questa situazione anche con le amicizie e il contesto si è creata la frattura la rottura e avete avuto anche un comportamento leggermente meschino nei suoi confronti perché comunque non avete avuto il coraggio di dirglielo chiaramente ma avete approfittato degli eventi ce l'abbiamo fatta quindi pazienza abbiate pazienza con me alcune volte ci sono delle stesure strane di carta presa così e quindi e quindi e quindi avete preferito una situazione che comunque vi ha dato una sicurezza maggiore ciò nonostante però il vostro pensiero va anche al passato perché questo passato è stato un passato a modo suo di valore però come se aveste dovuto mettere sui piatti della bilancia tutte e due le cose cosa facciamo questo o quello e poi avete optato per la cosa che vi tornava più comoda perché comunque l'altra situazione anche se auspicabile non aveva un futuro quantomeno voi non vedevate un futuro ed era molto dispendiosa quindi i denari erano in uscita e la situazione che avete scelto i denari erano in entrata quindi e infatti ecco dove mi ero confusa quindi voi che chiedete che siete il consultante o la consultante siete sposate siete uno dei due della coppia ufficiale per l'appunto quindi ora torna tutto con molta fatica torna tutto cosa accadrà cosa accadrà cosa accadrà allora qui abbiamo una persona che è stata molto accorta e parlo di voi che però del tutto non è riuscita a nascondere le cose fatte c'è qualcosa nell'ombra che tenta di tornare alla luce quindi fate attenzione il messaggio che arriva da questa terza variante è fate attenzione perché lei l'altro o l'altra sono sì nella radura osservarvi da lontano informarsi ma potrebbero fare capolino quanto prima e se non parlare apertamente confessare farsi notare fate attenzione al fatto che ci possa essere questo incontro tra la persona dalla quale vi siete allontanati e quella con la quale avete ufficializzato e infatti c'è un movimento di avvicinamento vedete di questa persona che sta iniziando a farsi coraggio che sta osservando la situazione per ora è ferma guardate anche la cosa meravigliosa il suo scettro osserva ma è vicina non è uno stare lontani è uno stare vicini e voi siete comunque in una situazione sfavorevole allora fate attenzione io non so se ci sono contatti o c'è modo di chiarire con questa persona e tenersela buona voi però risulterete bloccati e si potrebbe capovolgere la situazione che state vivendo e con la scelta che avete fatto che vi ha portato vantaggi potrebbe all'improvviso portare perdita di questi vantaggi potrebbe veramente ribaltarsi quello che voi avete costruito con l'entrata in campo di questa persona che viene a dire a confessare e a imporsi come esistente dice io ci sono io sono questo questa è la mia presenza questo è il mio ruolo lo devi sapere quindi questa terza variante ingarbugliatissima a volerla di nuovo rendere semplice parla di voi che chiedete di una persona che sta pensando a voi e alla vostra vita alla quale avevate fatto delle promesse dalla quale vi siete allontanati non confessando la vostra volontà di allontanarvi ma approfittando di una situazione contingente che ha portato una fruttura un allontanamento questa persona però comunque sta meditando di presentarsi nella vostra vita questa cosa potrebbe accadere se dovesse accadere porterebbe un pochino a ribaltare in negativo la vostra posizione oppure ricattandovi vi terrebbe sotto scacco in questo sacrificio volontario potrebbe chiedervi cose in cambio o la vostra presenza o qualche altra cosa che è un qualcosa che comunque dovete sborsare voi per il suo silenzio perfetto molto interessante nonostante tutto credo che per qualcuno di voi questo terzo messaggio questa terza variante forrà risultare consona alla propria situazione ed essendo la più ingarbugliata direi che se vi ritrovate la fatica di cercare di capirne capo e coda e mettere in fila gli eventi diciamo è balsa la pena di fare questa fatica perché è stata faticosa è stata una cosa faticosa lo confesso e mi piacerebbe tanto sapere cosa ne pensate e ricevere i vostri riscontri io vi auguro una buona serata buona festa delle donne e un abbraccio e un abbraccio e un abbraccio